Strumenti informatici in aiuto della cittadinanza terranovese che effettuerà singole segnalazioni al comune in special modo all'ufficio tecnico. Queste infatti saranno prese in carico, inserite online in apposito database e controllate dagli organi politici ed amministrativi in modo da sapere in tempo reale lo stato del riscontro della singola segnalazione. Oggi un cittadino si reca fisicamente all'ufficio tecnico, fa una segnalazione, ovviamente una segnalazione che è solo verbale. Dal primo di dicembre invece queste richieste verranno tracciate e inserite in un database. Significa il cittadino che si presenterà presso l'ufficio tecnico segnalerà ad esempio un ramo pericolante o una buca. Il dipendente sostanzialmente inserirà nel database la data della segnalazione del cittadino, l'oggetto della richiesta e soprattutto il nome del dipendente che si fa carico di quella richiesta. Quindi in termini di chiarezza, trasparenza e responsabilizzazione è un passaggio sicuramente che va a migliorare e a contribuire a un miglioramento dell'intera situazione. Poi appunto la segnalazione sarà a disposizione del comune. Questo database sarà visibile dal sindaco e dalla giunta in modo tale anche da potersi accertare che ci siano risposte in tempi congrui da parte della struttura tecnica. Perché faccio un esempio, se speriamo non capiti mai ma ci sono segnalazioni che da più mesi non viene data risposta è ovvio c'è qualcosa che non funziona ma l'amministratore e il sindaco in primo luogo se ne accorgerà accedendo quotidianamente al database. In seguito poi il cittadino sarà contattato tramite mail per conoscere gli sviluppi della segnalazione.